Buongiorno FTO Online, avviene deciso di rialzo questa mattina per la borsa, abbiamo infatti il nostro Fuzzimib che in questo momento guadagna l'1,5% circa, siamo vicini ai 22.800 punti, evidente l'accelerazione rialzista che si è realizzata dalla chiusura di ieri. Nelle ultime tre giornate si era disegnato questo flag, questo piccolo canale dalla inclinazione contraria al rimbalzo visto dai minimi del 28 di marzo, il flag è stato completato questa mattina con la rottura di 22.500 e a questo punto l'indice ha buone probabilità di salire fino a testare area 22.9950 dove troviamo queste forti resistenze, i massimi toccati nella parte centrale del mese di marzo. In caso di superamento di quei livelli, possibile la ripresa del rialzo in atto dai minimi del 5 di marzo con obiettivi anche 1000 punti al di sopra dei prezzi delle resistenze, quindi fino ai 24.000 punti circa. Quindi quadro grafico in evoluzione positiva, l'importante è che le quotazioni si mantengano nel prossimo futuro al di sopra dei 22.500 per poter continuare a puntare al test di area 24.000. Veniamo adesso ai titoli che andremo ad osservare oggi, partiamo con Telecom Italia in rialzo del 3%, il motivo di questo rialzo lo troviamo anche sul nostro sito www.ftonline.com, vediamo qui nella sezione blog dove tutte le mattine viene riportato un commento all'apertura del mercato e ai temi principali, nel caso di Telecom Italia vediamo che le indiscrezioni di stampa riportano che il CDA di Cassa Depositi e Prestiti potrebbe decidere l'acquisto di una quota fino al 5% della compagnia telefonica, l'ingresso del CDP potrebbe eventualmente preludere alla fusione tra la rete Telecom e quella di Open Fiber. Quindi diciamo che ci sono tanti temi sul piatto e Telecom Italia giustamente ne approfitta. Il rimbalzo visto nella seduta di oggi che ci ha riportato in area 0,78 si è realizzato a partire dai minimi di ieri che a loro volta, i minimi di ieri sono stati toccati a 0,75 circa, a loro volta sono allineati con quelli del 28 di marzo, quindi abbiamo un potenziale piccolo doppio minimo in costruzione, una figura rialzista che troverà conferma in caso di superamento del massimo del 29 di marzo a 0,78 e 16, quindi veramente poco al di sopra dei prezzi attuali. In caso di rottura di quei livelli segnali di forza che permetterebbe di ipotizzare il ritorno sui massimi del 9 di marzo a 0,84 e 35 circa. Quindi se le quotazioni dovessero riuscire a superare a 0,78 e 15, 20 avremmo un segnale di forza per 0,84. In caso invece ovviamente di discese al di sotto di 0,75 diventerebbe probabile la ricopertura del gap rialzista che i prezzi hanno lasciato il 6 di marzo con una base a 0,73 e 0,75 circa. Passiamo adesso all'analisi invece di Tenari, salto titolo questa mattina in forte rialzo, anche in questo caso siamo a 14,27, il massimo di ieri è stato toccato a 14,09, anche in questo caso dicevo c'è la presenza di un piccolo doppio minimo a sostenere le quotazioni, se andiamo infatti a guardare come si sono emossi i prezzi nelle ultime due settimane, scopriamo questo duplice test di area 13,50, la prima volta i prezzi sono arrivati su quei livelli al 23 di marzo, toccato poi nuovamente il 28 di marzo, nella seduta di ieri c'era stato un primo tentativo di superare il lato alto del doppio minimo a 14 Euro, le quotazioni si sono spinte fino a 14,09 ma avevano poi terminato a 13,91, questa mattina invece siamo decisamente di sopra dei 14 Euro, quindi il doppio minimo sembrerebbe a questo punto attivato, così ha anche le sue applicazioni rialziste che lasciano sperare in un ritorno sui 15 Euro almeno. Notiamo che la fase correttiva che è culminata con i minimi del 23 di marzo ha ritracciato esattamente il 61,8% della precedente tendenza rialzista, quella che era partita dai minimi del 14 febbraio, quindi il movimento di ribasso delle ultime settimane per il momento si può considerare un elemento correttivo, ovvero sia di natura temporanea, rimane pertanto attivo il canale crescente che i prezzi hanno disegnato dai minimi dell'ottobre dello scorso anno e il prossimo target, quindi per le quotazioni, sarà sul lato alto del canale intorno ai 15,40 Euro. Fino a che i prezzi si manterranno di sopra dei 14 Euro rimarrà valido questo scenario. Veniamo adesso al grafico di Buzzi Unicem, questa mattina sale del 3% circa, siamo a 19,65 Euro, nel corso delle ultime giornate c'era stata una forte tensione dal momento che i prezzi come vediamo si erano dilungati nel test dei minimi del 29 di agosto dello scorso anno, minimi a 19 Euro, vediamo che questa candela è un martello, quindi un elemento che compare di norma in presenza di forti supporti, infatti negli ultimi 4 seduti i prezzi hanno testato ripetutamente questi livelli, ma vediamo dal grafico a candele come nonostante ci siano state le relazioni intraday, in chiusura di seduta i 19 Euro erano sempre stati rispettati. Questa mattina siamo a 19,65, quindi anche al di sopra dei massimi del 3 d'aprile che sono stati toccati a 19,53. I prezzi si sono lasciati alle spalle anche la linea di tendenza che parte dai massimi di inizio marzo, quindi hanno inviato un segnale incoraggiante, a questo punto sarà importante vedere se sapranno confermarsi con questa direzione, prima con la rottura della media mobile a 20 giorni, a 20,17 Euro e contestualmente poi anche con la rottura della linea di tendenza che parte invece dai massimi del 29 di gennaio e che transita praticamente allineata alla media mobile intorno ai 20,20 Euro, quindi area 20,20 e 25 Euro sarà la prossima resistenza da battere per confermare l'intenzione di voler andare a correggere in maniera ampia tutto il ribasso degli ultimi due mesi circa, in quel caso obiettivi tra 21,70 e 22,35. Il supporto di 19 Euro ovviamente resta di fondamentale importanza, una chiusura di seduta di sotto i quei livelli rimetterebbe in discussione tutto quanto detto in ottica rialzista, prospettando invece una ripresa del trend ribassista negli ultimi due mesi. Quindi veniamo adesso a un titolo che non fa parte del circolo dei più liquidi, si parla di vetri, ce l'ha chiesto ieri un nostro ascoltatore, nell'assoluto ieri già c'è stato un bel rialzo con i prezzi saliti fino a 7,82 Euro, quando si parla di questi titoli che graficamente si possono assolutamente analizzare come titoli maggiormente liquidi, bisogna tenere sempre presente il fatto che gli scambi sono relativamente ridotti, vediamo ad esempio come nella seduta ieri e l'altro siano stati scambiati solo 9.065 azioni a un prezzo di 7,60 Euro, quindi scambi veramente ridotti, questo non significa però che graficamente il titolo non possa essere analizzato, notiamo ad esempio la perfetta tenuta del livello di resistenza dato dal massimo del 21 di luglio dello scorso anno, toccato poi con precisione ad esempio l'8 di gennaio, qui c'è un altro elemento grafico che ci conferma appunto la validità di un'analisi grafica anche di questo tipo di strumento, il doppio massimo che i prezzi hanno disegnato a partire dal 22 di marzo, quindi il rimbalzo che si sta realizzando ora da questa forte area di supporto, vediamo come appunto i prezzi intorno ai 7,55 Euro, 7,50 Euro abbiano insistito più volte tra febbraio e marzo, quindi il rimbalzo visto che questo supporto è del tutto credibile, un primo livello di resistenza è proprio il lato alto di questo doppio massimo che abbiamo evidenziato in area 8,70, la perdita del supporto di area 7,50 e 7,55 invece vanificherebbe i tentativi di ripresa delle ultime due sedute facendo temere un nuovo affondo ribassista che potrebbe andare a interessare facilmente anche i 7 Euro. Vedo che per oggi non ci sono messaggi da parte vostra sui titoli che vorreste vedere analizzati, vi consiglio come sempre di suggerirci nei commenti al video quelli che possono essere i temi di vostro interesse, vi ringrazio quindi per l'attenzione e vi do appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.